vedete queste montagne ebbene in mezzo a quella vallata lì che non so se si vede c'è la vallata di cogne quindi da lì si va a cogne ebbene in mezzo qui in realtà si fanno rafting vabbè qua c'è un mini mini laghetto però poi lì di fianco in realtà c'è il fiume quindi secondo me passano dal laghetto al fiume direttamente non ho mai visto così tante tute tutte insieme poi prendono vanno nel laghetto e poi dal laghetto vanno nel fiume tutto con la barca ciao 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 ciao